Può il Garrel aver influito nella morte di Andrea Marinelli e Domenico Castrignanò, i due ventenni di Vasto, vittime pochi giorni fa di un terribile incidente stradale sulla statale 16 tra Petacciato e Montenero? Com'era l'illuminazione in quel tratto? E ancora il conducente, indagato per omicidio stradale plurimo, aggravato dallo stato di ebrezza, ha rispettato il codice della strada? A queste domande dovranno cercare di dare una risposta gli accertamenti tecnici irripetibili che sono stati disposti dalla procura di Larino e che si sono svolti nel tratto di statale in cui la panda è uscita di strada e è incrociato proprio l'inizio del Garrel che ha aperto in due l'utilitaria. Sul posto a scattare foto e prendere in misura il perito nominato dalla procura Giovanni Russo, ma anche il perito di parte Paolo Lalli e gli avvocati delle famiglie coinvolte dalla tragedia. Tra le cause all'origine dell'incidente potrebbe esserci un selfie scattato in auto con il cellulare e che avrebbe distratto il conducente facendolo sbandare. Ma sotto accusa finisce anche il Garrel che nel punto in cui è avvenuto l'impatto sporgeva verso l'interno della carreggiata e non verso l'esterno. Un paracarro di vecchia generazione con una sola barra di protezione e non due come quelli moderni. Addirittura, secondo Giovanni Cerella, che difende il 25enne che guidava la panda, se non ci fosse stato il Garrel, Andrea e Domenico sarebbero ancora vivi. Solo ipotesi su cui ora la procura di Larino dovrà far luce. La perizia, chiesta dal PM Ilaria Toncini, proseguirà giovedì sulla panda distrutta dallo schianto che si trova in un'officina di Termoli e poi terminerà dopo un ulteriore sopralluogo sulla statale 16.